Andrea Nocini, colpi spettacolari, undicesima fatica o undicesima gioia di carta? Beh, quando nasce un figlio, anche se di carta, è sempre una gioia, no? È un lieto evento. Poi voglio continuare, tu mi avevi posto e mi hai lusingato in senso positivo, mi hai incoraggiato, siamo arrivati a 10 alla stella, a 11 la formazione di squadra, come tu mi hai detto nel telefono, l'altro giorno, adesso vogliamo arrivare ai 12 apposti, 12 costellazioni e poi si va avanti, insomma. Colpi spettacolari segue un po' il filone già segnato, portato avanti nelle precedenti 10 edizioni, il fatto di indagare nelle paure, nei sentimenti delle persone e di metterle tutte su uno stesso piano, indipendentemente dal ruolo istituzionale o dalla carica che in quel momento la persona ha. Cioè io credo, non è rivolto a me, non è un'autopromozione, né un'autoreferenzialità, come si usa dire in italiano perfetto, che chi appunto affronta con lo stesso passo, l'ha detto un grande del passato, adesso non mi ricordo, con lo stesso passo sia che tu passeggi con un re o con un potente, sia con l'ultimo della strada, con lo scartato per usare una frase di Papa Francesco, credo che assolva bene il proprio mestiere, che è quello di giornalista, che deve appunto anche scavare, il mio è un viaggio un po' particolare, e come hai detto tu giustamente è un filo rosso zingaro che si perpetua dal primo libro che tu hai collaborato a sviscerare e ad analizzare fino a quelli che ho fatto e spero di farne ancora tanti, che via mi dia la forza, soprattutto l'energia di farlo, perché se un giornalista come teme non è animato dalla passione, dalla missione e dalla curiosità, è meglio che stia a casa, va a farlo impiegato. In chiusura, ci ha colpito la frase che ha detto riguardante Gianni Gnocchi, che è molto più difficile far ridere le persone, spesso in questo momento, che farle piangere. Sì, è stata una lezione che ho imparato, perché se devo intervistare solo per fare un libro per me, io invece tu sai che lo faccio per donarmi agli altri, e così come se un giocatore è fortissimo, è dilettante, però non gioca, lascia lì e ha dei talenti, già lo si capisce che è dilettante perché la talentosa è andata in Serie A, per me è uno spettacolo, che si priva alle persone che amano quel calcio.